Una serie di proposte da sottoporre al Senato Accademico dell'Università di Bari nella riunione di domani è quanto ha presentato stamattina il Comitato Qualità della Vita all'Istituto Pacinotti. Il cosiddetto progetto Taranto riguarda la rielaborazione dell'offerta formativa ed è finalizzato a creare delle interconnessioni con il territorio per avere dopo la laurea concrete possibilità occupazionali. Il progetto prevede fra l'altro che venga istituita la laurea magistrale dei corsi di laurea ed economia e giurisprudenza, il completamento del corso di scienze della comunicazione, vale a dire il triennio più i due anni di specialistica e poi il corso di scienze dei beni culturali per il turismo e l'attivazione di master e seminari verso la laurea specialistica oltre all'istituzione dell'Istituto Tecnico Superiore per il Turismo e ancora il ripristino delle lauree triennali sanitarie presso l'ospedale San Giovanni di Dio, l'utilizzazione funzionale delle sedi universitarie e dei relativi laboratori e mensa. L'attuale sede di giurisprudenza di Via Acton, ad esempio, potrebbe essere trasformata in casa dello studente. Il comitato ha presentato anche il calendario delle prove simulate per l'accesso ai corsi di laurea nelle professioni sanitarie, scienze psicologiche e scienze della formazione primaria, fissate per il 16 giugno, il 21 luglio e il 1 settembre prossimi. Le prove, gratuite, si terranno nell'Istituto Pacinotti con inizio alle 9, con la somministrazione dei test e la successiva correzione ragionata con i docenti delle singole discipline. Infine è stato anche presentato il concerto dell'Orchestra del Liceo Moscati di Grottaglia che si terrà domani sera alle 19 in Piazza Garibaldi. Un omaggio musicale per i 150 anni dell'Unità d'Italia. In programma, fra l'altro, musiche di Verdi, Vivaldi, Ciaikoski, John Lennon e Battisti.